Il derby pirotecnico in notturna della diciannovesima giornata di Serie B incorona la rinascita basket rimini al pala Flaminio facendo sprofondare i Tigers Cesena. I biancorossi di coach Bernardi infilano la nona vittoria consecutiva per 74-66 in una gara guidata dall'inizio alla fine. Sugli spalti i tifosi ricordano la scomparsa della leggenda statunitense Kobe Bryant, in campo è invece moffa a fare il gigante e capace di trenare i compagni al successo. A completare la serata al pala Cattani è scesa l'archicofeenza capace di superare 73-68 Chieti. Gli ultimi due minuti sono decisivi perché il capitano Bruni effettua il ribaltone dalla lunetta sigillato dai tiri liberi di Tiberti. In classifica Rimini sissa al terzo posto solitario con 28 punti scalfendo proprio Cesena ferma a 26 mentre la Raggi Solaris sale a quota 18 ad appena due punti dalla zona playoff.